Con coccia l'occhi to Santa Carusa finisci in transacco a mensa via, ma a Catania non rifi me ne girosa se l'uomo so è innamorato di tia. Con tutto che ti fai desiderare non si arruffa e non si si dia, anzi, come davanti ci compare ti spara un'ora di moschetteria. Ti aspetto un anno per una passata, con devozioni e senza diripio, perciò ti vieni a piglio a maternata e quando ti arricogli usavi Dio. Beh, devo dire che ci voleva, ci voleva perché la sentivo dentro questa cosa e poi con la chitarra e l'organetto, insomma, è una cosa molto molto carina. Grazie, grazie ai fratelli Abbate, che bello avere musicisti live in studio e poter anche fare di queste belle cose. Intanto grazie anche a tutti quelli che hanno apprezzato questa poesia l'altra sera d'Insieme, grazie a tutti per i complimenti ricevuti, ma sono semplicemente tre quartiere molto semplici che parlano di una ragazza, una ragazza tutto sommato normale, che però fa impazzire talmente tanto che, insomma, alla fine si va a finire in un sacco a mensa via, ma in un sacco votivo però, in mezzo alla via a celebrarla. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.